Oh bella zì, dopo tanto tempo sul canale cominciamo a fare i primi video lunghi Dai eh Ragazzi, ragazzi guardate qui che bello, questo è il primo video lungo che facciamo Ok, ragazzi, vai per vedere e facciamo la pubblicità Per chi vuole venire, vi fare una mano via della paglia, quello lì è il coso lì Ok, che ore sono, vanno a vedere 10.50, anche se Dopo la messa ci sta ancora Questo è il nostro youtuber, che se ne va, no scherzo, insieme Ok, allora, ok ragazzi, stiamo a un minuto, il primo minuto dei video lunghi Ok, Travis che oggi vuole vestire, no, ragazzi, scherzo Allora, ragazzi, guardate qua Come? Ok, ragazzi, sto a provare col filo a fare un video bello, però fa schifo Oddio Oddio, 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 oddio No, ragazzi, scusate, non volevo, non volevo, non volevo Ok, ragazzi, io direi che questo video, se è anche infortunato Io direi che questo video può terminare qua con la sciolata Allora, ragazzi, da oggi penso che faremo meno shorts e porteremo più video tipo di crossbar challenge Anche di challenge sul calcio, ma oggi è bagnata la piazza, quindi non potevamo giocare Ecco, ok, non sentitelo Allora, ragazzi, finiamolo così, sto video Da me e da lui Ok, avete capito con chi sto Allora, ragazzi, da un po' da messa, però dopo ritorno Quindi se dopo lui ancora ci sta, fanno pure qualche altro video, però Dalla sua faccia dire che dopo non c'è Allora, vabbè, ragazzi, ci vediamo dopo O se non dopo, ci vediamo sto pomeriggio o la prossima settimana Con nuovi video Raga Complicità? Sì, vabbè, con me però, aspetta Il saluto del YouTube Ok, ciao Ciao